Le situazioni di difficoltà e di dolore nelle famiglie sono state protagoniste mercoledì pomeriggio della Sesta Congregazione Generale del Sinodo dei Viscovi. Nel corso degli interventi è stato ribadito che la Chiesa Cattolica racchiude sia famiglie sane sia famiglie in crisi e che lo sforzo quotidiano di santificazione non deve mostrare indifferenza nei confronti della debolezza. La Chiesa dunque casa paterna e non dogana deve offrire un accompagnamento paziente a tutte le persone. Nel perseguire una pastorale colma di misericordia piuttosto che repressiva, i pastori, è stato rimarcato, devono evitare attentamente di dare un giudizio morale, di parlare di stato permanente di peccato, cercando invece di far comprendere che la non ammissione al sacramento dell'Eucarestia non elimina del tutto la possibilità della grazia in Cristo. Questi temi sono stati affrontati anche durante i lavori della Settima Congregazione Generale con un accento alla necessità di semplificare e accelerare i procedimenti per la dichiarazione di nullità matrimoniale. Ribadendo poi l'impossibilità di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è stato comunque sottolineato il bisogno di un approccio rispettoso e non discriminante nei confronti degli omosessuali. Sul fronte delle sfide pastorali circa l'apertura alla vita invece sono stati sottolineati tanti drammi che vivono molte famiglie, ad esempio in Asia, dove si verificano casi di infanticidio, violenza sulle donne e traffico degli esseri umani. Il presidente delegato dell'Assise, il cardinale André Van Troarci, vescovo di Parigi, ha chiarito l'urgenza di diffondere una mentalità aperta alla vita per contrastare la mentalità contraccettiva e la diffusione di un modello antropologico individualista che determina in certe regioni del mondo una forte caduta demografica. Significativa in questo orizzonte è la testimonianza dei coniugi Arturo ed Ermelinda Zamberlin, responsabili del movimento Equipe Notre Dame per la Super Regione del Brasile, sposati da 41 anni con tre figli. La sessualità, hanno detto, è un fattore di santificazione e attualmente ha bisogno di essere salvata dall'erotismo imperante che riduce l'essere umano a un'unica dimensione.